Tra un mese gli ambulanti del mercato a Isernia torneranno a pagare la tariffa per il posteggio. Dopo il blocco disposto per il 2021 dalla giunta ad Apollonio a causa della crisi economica indotta dall'emergenza pandemica, quella stessa amministrazione aveva previsto il ripristino della tariffa a distanza di un anno. Quell'anno è trascorso, ma visto che dalle difficoltà economiche quei lavoratori, come tanti altri in altri settori, sono tutt'altro che usciti, anzi ora la situazione rischia di precipitare, anche perché si prospetta addirittura un incremento del costo per lo stazionamento. Per di più il forte aumento del costo del carburante incide ulteriormente, tanto che alcuni tra questi esercenti cominciano a domandarsi se valga la pena continuare. Già se giri la telecamera vedi che non c'è nessuno, continuano a aumentare tutto, gasolio, dicono che vogliono aumentare i posteggi, andiamo a mangiare a casa loro. Parlano del doppio, se è una bufala non lo so, però già hanno parlato di aumento e quando parlano di aumento sicuramente, se l'hanno detto lo fanno. La crisi ci sta, è un fatto generale, però dobbiamo farci forza e andare avanti. Ancora non è arrivato, ma secondo me ci sarà aumento di nuovo. Purtroppo siamo costretti perché abbiamo bisogno di lavorare, però vediamo un po' fin quando riusciamo ad andare avanti. Eh sì, sta aumentando tutto, la gente non spende, sta aumentando tutto. Eh sì, un po' sì, perché a me la NAF da Cassino 1,70. Eh sì che siamo preoccupati, se aumenta il 45% non conviene più a venire qua, che ci vanno 30 euro di gasolio per arrivare qua. È troppo caro, è chiaro che non veniamo più. È chiaro che non veniamo più. Eh le cose non vanno bene. Ancora in aumento, ancora dobbiamo vedere. Sì? Sì, sì. Rieschiamo di chiudere. E non conviene venire qua a pagare tante spese di gasolio, autostrade e poi venire qua a pagare un posteggio esagerato. Conviene stare a casa e andare all'altra parte, non venire proprio ai sedi. La giunta Castrataro, investita dalla questione, sta valutando contromisure. Marzo si avvicina, gli ambulanti restano intanto in un'attesa, a quanto pare, non troppo fiduciosa. Marzo si avvicina, gli ambulanti restano intanto in un'attesa.